Claudio Ranieri è tornato a Roma nella sua città per ricevere il premio Mecenate dello Sport. Il tecnico campione di Inghilterra con il Leicester è orgoglioso di avere vinto all'estero nel nome dell'Italia. Interviene anche sul no della sindaca Raggi alle Olimpiadi di Roma 2024. Sono molto dispiaciuto perché non so bene tutti i motivi che hanno portato il Movimento 5 Stelle a far dire no alla Raggi. Però non aver fiducia nei nostri imprenditori mi sembra che è un passo indietro proprio a livello internazionale.